Quasi tre morti al giorno di media, 2,4 per l'esattezza, festivi compresi. Numeri freddi come tutti i numeri che restituiscono però l'enormità del fenomeno. Sono le morti sul lavoro nel primo semestre del 2023, secondo i dati forniti dall'Inail. La strage di Brandizzo ricorda una volta di più un problema che si ripropone praticamente tutti i giorni dell'anno. Se è vero come è vero che nei primi sei mesi di quest'anno sono già 450 i lavoratori che hanno perso la vita, 13 in meno rispetto all'ottesso periodo del 2022, 88 in meno rispetto al 2021, 120 in meno rispetto al 2020 e 32 in meno rispetto al 2019, pur considerando il periodo della pandemia sempre troppi. In un intero anno, nel 2022, erano stati 1091 per una media impressionante di 2,9 morti al giorno. E secondo osservatori indipendenti che censiscono tutti gli infortuni mortali, compresi quelli ipotizzati da lavoro nero e per i quali non ci sarà neppure indennizzo assicurativo, si arriverebbe a numeri ben più alti. Sono tutti muratori, operai, agricoltori, magazzinieri, trasportatori, uomini e donne che la nostra Costituzione mette al centro del nostro Paese, Repubblica fondata sul lavoro. Carlo Inbimbo, Sky TG24